Salve ragazzi qui è Delta28 e siamo all'ultima parte del gameplay che avevo fatto che ho diviso finalmente in tre parti questa è l'ultima parte dove far vedere l'ultima modalità che sarebbe eroi contro malvagi si, il gruppo che eravamo in 8 e 9 abbiamo sclerato avete visto e nulla purtroppo la mia voce ripete non si sente peccato però vabbè gli altri si quindi si sentite lo sclero e il divertimento vai Delta con l'eliminazione della guarda dei tuoi cerca l'eliminazione perché vedo ancora Gemini che gioca in assalto con la TQ ah perché lui si è messo a fare altre robe vabbè questi stregonerini in culo, in culo ridotto ma no ma già l'in culo fa male ridotto poi ma un culo piccolo ah vedi siamo tutti? no manca Tomka che è vabbè dai falo partire provo il nuovo mitragliatore ok stiamo quindi divido in 12 parti magari ma in che canale sei? in Delta 28 canale YouTube canale Delta 28 iscrivetevi iscrivetevi mettete mi piace cerchiamo subito facciamo esatto non dovresti fare il contrario chi non guarderà questo video morerà entro sette giorni così distruggeresti l'economia mondiale proprio sai quello con 106 iscritti? 107 le sono appena iscritti la bambina sono bambina ma non c'è pensavo fosse in diretta no non è in diretta oh raga ma il pesante io ho messo il mi sembra quello perché ti senti il senso giù? ti sentiamo a singhiozzo almeno io ti sento a singhiozzo no tipo montagne russe c'è la voce va su la voce va giù la voce va giù ma no ma che è taccodanno ma perché non lo fanno esplodere questo pedito no mi sono scritto delta mi sono scritto al canale anche io anche io guarda già che hai fatto più bello sei contro ti stavo che ha seguito scala remastered no 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 lo ammazziamo sto qua cavolo vuole ritirarti contro Q2man che? no è Q2man quando le vuoi fare la spesa 2man la faccio 2man e con cosa la fai? con 2man? con 2man eh comunque no se tu vieni nel mio canale faccio niente pinche e non ti fuggi il tempo e non ti metti anche il carattere devi fare devi fare devi fare devi fare devi fare ancora video con l'armatura che hai promesso e non l'hai ancora fatto tutte scuse no no è vero non direi balli io il fucile delta gioca anche overwatch figa non trovo un solo chi gioca overwatch uffa non trovo nessuno che gioca overwatch che c'è paladine paladine ma qualcuno che già ha battuto figlio 1 tuttora io ogni tanto c'è più star wars è overwatch no perché io gioco a battlefield dovete aggiungerci qui qualche volta aggiungervi insomma dai buono e dopo giocare in general anche là la ma sono io sento l'eco su delta o no si inizia oh che tempismo e guarda delta c'è lo chef in partita sta partendo sta parte un penetra è forte questo mitra qua poi si spara lento però no stavo provando un nuovo mitra è forte secondo me questa qua si è carino quello lì è quello del cecchino è il secondo dell'assalto no? si anche quello il secondo dell'assalto però se è quello forte è quello del cecchino è la stessa cosa solo che è più forte che stanno camperando pure loro come noi prima ci sono nascosti vado a vedere su ci vorrebbe un altro dardo scanner ci vorrebbe un altro dardo scanner per violare i nemici qualcuno con me raga qualcuno con me non c'è nessuno è uno sopra Eccolo, sono qua, sono qua raga Sono di sopra, fuori, sul tetto Arrivo Sul tetto? Sì Arrivo Siamo tutti sul tetto Poche parole, solo io non li vedevamo Ma non c'è nessuno Infatti Da le false informazioni E uno c'era Eccolo Da uno prova a entra Questo è Phil C'è Chino Perché sai, inoltre non lo sai Perché non fa l'altro Perché il primo ordine non è sessista È per la parità dei sessi È per tutti i sessi in uno Eh, livello 30 Buono Eh, gribio sotto fronte assistenza Sparando completamente a caso Bravo Questo è il modo di fare le cose C'è un cecchino In fondo In fondo alla piazzetta nord-est Sono vicino a Pepe Garibaldi qua Esatto Sinistra Che merda Ma mira che monna Che merda Ma se salto da attento La minigun spara No, no Preciso No Aspetta, ti do una spinta io No, no Dai vengo pure io Dai che è arrivato sotto il diavolino Ciao Su il diavolino 33 Ok XXXT Brucio io XXXT Ma sulla piazza Vuori No, da dietro Oh, ce n'è uno nel tunnel Maledesse Che cazzo Stanno sopra Stanno sul tetto C'è un ufficiale sul tetto C'è un ufficiale sul tetto C'è un ufficiale sul tetto Ma che c'è chi inna Dove? Ma dove stai sparando? Ehm Tu chi sei? Parfino Se non a salire Vieni Chi sei? Esatto Tu chi sei? Mi ti chiedi Dimmi chi sei Cosa mangi Chi sei? Cosa mangi? Cosa mangi? Cosa mangi? Uno l'ho ucciso Non piacciono i treni Ok, l'ho ucciso Ok, non passano i treni Quelli a testi Aiuto La mia cavatta è malvagia Ok, di sopra è libero Settore è libero Settore non è libero Non è libero Non è libero No, abbiamo coperto la vista Yeah Headshot Cazzo Come dive kick Che dicono Headshot No, non ci credo No, non ci credo Non ci credo Non ci credo Ho saputo Uso lui No, ragazzi No Vuole usare lui L'UV L'UV Penso sia un bug Avete presente Quando Delle botte con l'arma E lui fa Ah, così Non ho capito Chi è che vuole usare Mussolini Cosa? Eh, usami lui Quando c'era lui Quando c'era lui Quando c'era lui Le mortiniere Esplodevano in orario Oh, raga Quando c'era lui Trimelli Li deportavano in orario Oh, Grievous Ok È arrivato Simo Sampo Dopo invitano Ah, eh Bene Anzi, lui Quando c'era lui Si faceva la rotta di Kessel In otto parser Ah, ma è online Cazzo La rotta dei parser C'è il Simon Samp È entrato Sì Simo Sampai Come? No, no Filpay no Sampai Allora, l'aiutino Sono dentro È pieno Ah, torretta di merda Quanto cazzo Ce n'è Ha acceso 20.000 torrette Cazzo, 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 cazzo Mi ricordi la canzoncina di Phil Pei Ve lo D'altro Ci sia la voce femminile anche pesante, non ci credo, è un bug Tutti i personaggi femminili sono femminili Ma il nuovo aggiornamento hanno fatto bug su bug, è sicuro Come sempre Ogni aggiornamento c'è un problema Ne mettono a porta una e ne fai una occasione sua Qualcuno vuole il ribelle alla braccia? Sì Io voglio bracciare Il ribelle No, è un pezzo di merda Ci bellissimamente Saltando Ti fermare C'è chi lo infame Per te sono laser No, sono cascato Lasciami tutto Hello No, sonoै No, sono Bene Anche la fonte? Rino. La cune di più come a la gara? La cune di più come? La cune di più. Si! La cune di più? Cazzo, 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 cazzo Un mostro Stai raggiungendo il livello viri in fasce Allora raga, ma solo io non trovo più nemici? Ah, scherzi, ecco Ci sono, ci sono Li stiamo facendo un po' l'abbraccio No, come fai? No, la granata è rimbalzata e mi ha ucciso me No Vieni, faccio Ma è malucchino Dai che è entrata, entriamo Ti segui Gucci? Eh? Ho giù tarretta Stanno qua, stanno qua Oh, scusate Provo l'incendiario Oh, oh, ma ancora adesso mi guarda Chi viene dentro con me che ho l'incendiario? Che da dentro funziona meglio lì Mi vuole mica tanto Entri profile activated Mi seguo ragazzi Posso dare un po' di gente Calata, bro! Ah, fammocca E' anche perché la pistolina è bella potente Eh, ovvio No, come? Che armare? Buonasera Che c'è? Buonasera 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 Ciao Simon Ah, Simon Bene, dai te Bene Dopo ieri sera poi Oddio Ce n'è uno dietro Ci manca uno Sì Ci siamo ultimo Eh, niente Prova serie di 30 kill Simon Ehi Ti sei perso l'ignoranza in persona prima Chi c'era? Noi prima Nella morte nera eravamo in otto contro uno Ci siamo messi in quello scudo di falange oplitica avanti In otto contro? Uno Eh sì Perché devi disattivare l'audio di Simone Eh sì Ma alcuni me li dà, a me altri no Per disattivare l'audio Eh sì È sempre così Non mi dà Andre e Micio Ma io non dovrei avere l'audio Lo dovrei avere disattivato Ah ok, forse è per quello Eh, finalmente No, perfetto, ci siamo Io invece oggi ho messo Non so se l'avete visto Cioè fai, quintiamo così in trapposto L'ho trovato sul Eh Sì sì, dai Vale Poi provo a fare Unishity se volete No, però non c'era nessuno Sì sì, non c'è spazio È sempre perché sono uscito io Eh Non so, dicevo, non so se avete visto su un gruppo Facebook che ho messo, quel video che ha messo su un altro gruppo Facebook inglese su cui vado io, PS4, Xbox, no? Ci sono tipo Sono su Camino Si chiama How to Vabbè, come conquistare un bersaglio Praticamente Sono tipo Sapete su Camino quando attacchi che hai i roboi separatisti Il primo Praticamente i droidi Praticamente Parti, inizia la partita E poi c'è quel corridoio esterno sulla sinistra Che se lo fai tutto vuoi spunti da dietro agli altri, no? Sì E sono passati di lì tipo in otto, in nove Tutti quanti all'inizio E praticamente due sono andati alla prima uscita Due alla seconda Tutti gli altri alla terza E si sono messi a fare blocco Praticamente dove nascono gli altri, no? I croni Quando c'è la porta che si apre e che entri dalle scalette, sai? Facciamo un assalto galattico Sì, un assalto galattico Facciamo un assalto galattico finalmente Oppure possiamo provare a fare cosa? Possiamo provare a fare recontri malvaci Sì Siamo in sette però Siamo tutti almeno intanto Eh esatto, tutti almeno Eh io sono già almeno Mi amore No, devi andare al menù o va a un posto delta Tutti almeno Tutti almeno Tutti almeno No, sono allo da un posto delta No, idiota Devi andare al menù Ma perché? È una bella partita Cioè raga potevate dire che eravate usciti eh Non devo ripetere da sei giorni Ah Ah io l'ho impegnato, sai Ehm Beh Quando uno si fa prendere dalla foga No, però No, però Dai facciamo un assalto galattico Dai facciamo una private contro malvagi Ma ne manca uno Non è una private Ma sì, ma mi offro io per fare il ruolo Ecco, ve l'ho messo, guardatela se potete Per fare l'uno che si aggiunge Esatto Prendi un altro posto Prendi un altro posto Prendi un altro posto Li posso controllare tutti e due Li collega un unico mouse Ma facciamo fatica ad entrare una volta sola Vuoi entrare due volte Sì, non è un problema Dai che c'è Gemini nel menù Adesso gli spam inviti Perché non succede mai Non succede mai È la cosa più rara da fare E poi tu poi E poi scusa, io so che qualcuno di voi è un fan degli eroi complicati Quindi Ma sì, lo sai che non mi piace però Di chi stai parlando? Eh Appunto Di cosa tu stia parlando? Io sono per la democrazia Per la repubblica Per le qualità Tutti uguali È così che la democrazia muore Sotto sconoscianti glitch Esatto Sotto sconoscianti gribus Dai giochiamo Dai dai, allora due gruppi forza Dai Abbandono Chi è che... Io piglio Delta Perché sennò dai poi Dai, facciamo i capi in squadra Mi piglio Delta E chi altro di cui vuole venire? Facciamo così Beh, se vuoi duplicare Allora... Aspetta, ma siete passate tutte dall'altro gruppo? Che che... Io ho invitato Miccio che è entrato e Gucci che... che non ci sa Aspetta che arriva... Delta? Allora vieni Allora invitami tu Ora non ne posso più invitare io però Cioè... Perché? Io a Rino... Ho mandato le richieste di amicizie su origine, accettatele... Ah ok... 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 Io posso stare il tuo invito a spettacolo Ah eh... Ma... Vabbè... Nooo... Eh... No... Dai, non ci sentiamo più si dice in quattro perfetto allora dai non ho come amico delta 28 ma per amiris punti allora pronto al 3 1 2 3 via c'è amico ti ricordi di me pronti a cliccare a nulla anche te simon e si nel caso in partita ok da noi ricerca e ancora a non basta che lo fa il capogruppo nulla non lo so non c'è un capogruppo è una roba molto comunista c'è chi ha cercato la partita non penso che mi sa che puoi farlo anche tu no non sono un po comunismo tutti uguali tutti pari tutti i cloni ancora che cerca il primo tentativo si non è un gruppone adesso dobbiamo invitarci tutti pari tutti i verdi si si è davvero un culotando così capirete la tragedia eh ma se ne facciamo il gruppone pensa che dopo non funge più no no funge funge finché rimaniamo in partito poca perché non fare domande ma no gribus è venuto di qua eh esatto va a fare il squadrone accetta l'invito esatto accetta l'invito stai zitto accetta l'invito e e mutatevi per favore esatto ok perfetto dai ho mutato tutti ma non hai rimanato un invito fuoco si devi tornare nell'altro gruppo adesso è un po complicato la prima volta però poi esatto è più facile a farsi che addiosi ma ti abbiamo invitato in 40 perché ho dovuto darci fener solo ora siamo in sede una parte e poi dall'altra dei personaggi con il graffone al menu di gioco no no siamo in realtà è il clone del delta lì che non ha ancora accettato il gruppo eh aspetta 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 vabbè non è fondamentale dai vieni con me venite con me che squadra ho fatto nascere lontano ti ho nominato la richiesta su origine e accetta la cosa magari provo a invitarti io ehi delta delta vieni con me rimani qua fuoco lascia lascia andare questo dart fener allo sbaraglio lascia andare da solo che sembra molto guarda lui è molto deciso vediamo se si raffa chi ha detto ma no era ironico oh che c'ho fatto chi ha incazzato il vostro compagno oh sarà il prossimo bersaglio veramente incazzato il vostro compagno ma perché chi era il bersaglio ditemi di darci una calmata un attimo aspetta nooo no ma aspettate un attimo c'avevo un compagno di squadra ah no era il gruppo eh non capivo perché mi andava al verde e sono andato vicino era Grimius che mi ha ammazzato va l'orgo dai ti rinvito di nuovo delta devi andare su origin e cliccare partecipa cioè accetta è il tab là come si chiama al tab ok vabbè ma non è fondamentale in realtà no adesso no 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 dai raga dove sono gli altri oh proteggetemi tu sei amico mio vieni qua vieni qua vieni qua aiuto vieni qua aiuto allora quindi praticamente io vedo verdi tutti quei miei avversari bastardi 4 contro 4 Hey Luke! Hey Luke! Ci hai provato, Gribis! Sì! Eh ma perché c'è perché f***a? Sono io! Ah merda, è Fennar Broba Aia, bastardo Dai, non vale Colpa di Kylo No, non vale Non ti senti una brutta persona con Phasma Dai, mi ha fregato la Kylo, bastardo Tocca Yoda, tu che sei mio amico Andiamo E guardo un Chewbacca vulnerabile No Ti ha detto vulnerabile? Costegnami a farti fare No, bastardo E' morto, prima Ehi l'amico Bersaio Babbo verde Avevo quasi ucciso Kylo Ren Quasi Ragazzi, sono il bersaio, dove state? Io sono abbastanza vicino a te Vai, bastardo No, vai! Fermo, fermo! Si fermi! Aspetta che c'è Yoda che si deve fermarsi Si Mi ha bloccato sto Mi vuole raccontare una cosa Alcun altro che mi vuole sparare? No, eh? Aiuto, aiuto, aiuto Ma non vado Se sto volando non può prendermi Chewbacca col pugno per terra Eh, lo so Questa è una cosa che anche a me penso Chewbacca qua sotto Ah, onda d'urto è vero Perché fa un'onda d'urto Alleate com'è? Eh, che so All'anno d'urto Eh, che pareva l'outrader Come va più vita lui? Aaaaah Oh, cazzo No, ma tu sei l'obiettivo Scappa Mettiti in salvo, sciocco E' fighissimo visto da qua il combattimento E' fighissimo No Eh, ma raga dovete aiutarmi Non posso Sono il bersaglio Sono il bersaglio Non potete aiutarmi gente Io non ci sto capendo Oh, cazzo Ma cazzo Raga Raga Il scopo è difendere il bersaglio Non lasciarlo a morire E' il bello il bersaglio E' bontà Chi è? Fatete il bersaglio Guardi, sbagliati l' enemigo! Guarda, quando giocavo Pro Club che non sentivo parlare tante persone insieme, non riesco a giocare. Non sei riuscito manco a spingermi. No, ma mi hai spinto, non so perché non ha funzionato. I giocatori sono verdi, è impossibile... Babbo! Babbo! Vittu, affermate! Ma dove vai Babbo? Vittu! Ah no! Arrivo, arrivo! Avevo messo Gmito, Luke, Scrabult e adesso lì in due. Ma mi ha messo lei in automatico. La fatta che voi avete in squadra 1. Nooo, ma l'ho lanciato sotto, si strode. Io te l'ho trainato. Dove va, Ray? Ma fermati, Ray. Fallo, a chi? Ma io avrei... Mi avete fatto una orte, oddio Cristo. Mi ti faccio rifermolare, non potrei neanche muoversi. C'era la ferie che mi bloccava, aspetta che ti ritraccino via. Guarda, guarda che merda. Ha fatto alcun spinto. Già, c'è un po' di vita. E' un po' di vita, lui. E' un po' di vita. E' un po' di vita. Guarda che devo rompere le palle a Luke. Non mi piaceva andare bene, da l'ultima ordo che ha 8 volte che mi uccide. Ma perché c'è questa macchinetta di plasma che rompe i coglioni? La macchinetta di plasma. Guarda, dove va lei, Luke? Ma dai, ma... Non puoi rifare tutta la macchinetta di plasma. Ma c'è Yoda qua. Rompe il cazzo. Sai, guarda che c'è vita, l'invernale maledetto. E scappa via. Come osi scappare via. C'è un orde e si incerterà. Ah, basta. Andiamo a che palla. Andiamo a che fare tutto il gruppo insieme e la boiada. Non si capisce più niente che sono i nemici. E' il golo del lago. Sono tutti verdi. Bisognerebbe togliere il contorno... ...di giocatori degli avversari. No, non attaccare plasma, è l'unico personaggio pseudo-utile del primo ordo. No, plasma deve morire. Bene, sono io l'obiettivo. Facciamo dei fumenti e dei romanzi su di lei. Stai fermo. No, Luke. Dove vai? No, ma guarda, c'è un nero. E' un nero. E' un nero. Wow. Perché c'è un nero sull'unzino? Non... Ah, c'è un po' di spetti al nero. Ah, fangulo! Mi blocca la macchinetta, non più i coglioni. E' un po' di macchinetta. Maglio un po' di macchinetta che fa il caffè. Ah, un po' di Dio. E' lui che ama il vibratore di plasma. Ma è che cazzo, no? I balle. Mi vieni qua. Mi blocca. Uola nero. Nooo! Mi bel tiro. Mi hai fatto volare solo perché... sono nero sì bene o male volano bene aspetta è un altro nero cazzo c'è c'è un cazzo che mi vuole uccidere il nero aiuto aiutarmi dove cazzo siete aiutarmi traditori fermo luke luke stai fermo un attimo che devo andare a uccidere il tuo amico nero raga più concentrati consigli un altro negro conti neri come si confonde in viaggio verso morte nera 2 eroi contro morte nera e se simone se facessimo i cosi la i dispetti come si chiamano i glitch si colpevole anche se è complice kribus io giocherò a basket con te un'altra partecipa intanto bestia vabbè da giovane mica era brutta io preferisco l'imperatore devi andare su origine cliccare partecipa e comunque anche fasba quella cromatura ti chiamano i miei amici una lol qua una laila una laila una laila scusa io lei la come la chiamiamo ma ti ricorda e Gianni oppure a Darth Vader le avevano cambiato nome in italiano non parliamo come? chi? no no Darth Vader in Italia l'han doppiato Darth Fener perché Vader non sapevano dirlo oh ma oh sì ma sì oh 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 Dramatica introduzione, the galaxy's greatest heroes, it's deadliest villains, all competing in an epic battle for the ages. Dramatica che è saltato, Krivius! Beh, per chi vuole ci sono due padri per diritto. Ma perché è svolato indietro se l'ho spinto di lato? Che logica, che gravità si applica qui? Dai, piglia il Luximon, fammi un piacere. Cosa? Piglia il Luximon. Si chiama Bang. Ciao, Bang. Occhio per i terni. Vola via. Sicchio. Dopo aver letto il libro di Bane mi sento a mio agio con i Sith. Ciao! Mi hai ucciso a cazzotti. Ah no, era l'altra, non eravate qui. D'arte, eccolo! E ecco Krivius. Ruffino Camminatore del Ceto. 10 punti! Grifton Lord. Quanti suoceri! Quando i suoceri si duplicano! No! Uh! Guarda che cade! Dio mandati dall'altra parte! Ah, calmo! No! 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 Ma non è messa che mai! Non di Dio! Il nuovo Pipistrella! Si che mi ha fregato Vader! Non più! Il nuovo Pipistrella! Ma di nuovo! lo fitto del buccato sembra più bucciato sento un ciubbe canzimare ma di nuovo abbiamo un matricida un arrabbiato no lando è il più nero dei neri è vero che io lo provo a fermare e qualcuno lo spinge via che cazzo è successo no che use perché il silenzio perché sei il mio bebe il piccolo ben e guarda c'è il mio babbo se ti accicassi no ha schiacciato il tasto il potere dei miei cazzottoni guarda che b di chino che è quel cornuto la nessuno dovrebbe giocare come palpato oh ma uno delle vostre squadre ha quittato eh sì Anna Lyle no continuo a rotolare guardatemi mi sono contorto guarda io buonasera buonasera no guardami c'è ragazzi Tom Cavini qua non attaccarmi guarda che roba dovete vedermi guarda guarda che roba guarda che roba chi? guarda che roba che cosa? guardami guardami aspetta aspetta no no e poi mi è attaccato è rovinato tutto per solo per chi mi è attaccato no devo dire adesso mi è cieco Chi ce l'ha l'invito per il server? Vieni qua, vieni qua Io Non lo puoi fare anche tu Eh no Non me la dà come Dai dai Bird, bird, muoviti Muoviti bird che c'è un posto libero qua in partita Siamo ero contro il malvagio 4 contro 4 Se mi mandate l'invito Invito un mio amico con cui stavo giocando Che entra pure lui Eh ma non ci stiamo perché siamo Cioè siamo insette, ci manca un membro Ah e allora niente Eh allora sì Allora sì No l'ho mandato a Delta Ho sbagliato Eh ma Delta è qua con noi Che è l'unico Bebevato guardalo È arrivato Vola vecchietto vola Guarda che devo uccidere Io lo posso uccidere Posso girare adesso giusto Fini su di sì Se non mi dai il nome lo invito io Eh no Non lo posso girare Fissa no Non lo posso girare Ti mando il nome Sì sì Raga aiuto Trucco mentale Ma che l'ho bloccato all'aria No abbiamo un perso Stra perso No vogliamo il video integrale poi eh Sì sì Dei papi Ciao ciao Non si guarda nessunisì Non è complicato che c'è eh no quello lì è il il tag prima andai io